Garantire la stagione turistica salernitana nonostante le difficoltà per l'emergenza da Covid-19, Federazione Italiana Associazione Imprese, Viaggi e Turismo, Federalberghi, Federazione Italiana Pubblici e Esercizi e Sindacato Italiano Balneari lanciano un grido d'allarme e inviano un appello al Comune di Salerno chiedendo un aiuto per la ripartenza. I salerniti balneari sono pronti a cominciare il montaggio lunedì prossimo, lunedì 4 maggio, con un grosso punto interrogativo. Non sappiamo né quando apriremo né in che condizioni apriremo perché non sono ancora venute fuori le linee guida che ci permetteranno di affrontare questa prossima estate. Chiediamo ai Comuni che ci esoneri dal pagamento dell'Imu che grava sulle nostre strutture, che ci riduca o ci esoneri dal pagamento della Tasi, la spazzatura che per noi è un costo esagerato. Vorremmo che ci sospendesse, quantomeno fino a luglio del 2021, tutti gli altri tributi, pubblicità, passi carrabili e tutte le cartelle esattoriali, le rottamazioni, le rateizzazioni che sono in essere in questo momento. E vorremmo che si applicasse una volta per tutte la 145 che ci darebbe la garanzia di poter gestire queste nostre strutture fino al 2033. Grazie.